Se stai riscontrando problemi riguardo a Fortnite sul telefono è possibile risolvere il problema eliminando direttamente i dati, poi devi rifare di nuovo il login, quindi in questo caso puoi farlo direttamente su Fortnite oppure puoi farlo direttamente su Epic Games. Oggi noi lo faremo su tutte e due le applicazioni, quindi trattini su Fortnite, vai sulla info, scendi fino a giù fino a trovare così, sospendi l'attività dell'app se inutilizzata, togli la spunta da qua, poi sotto dove c'è scritto elimina i dati, clicca direttamente elimina dati, ovviamente sfotterà solamente la cache, quindi noi dobbiamo solamente sfotare le cache e non i dati. Una volta fatto, torniamo un attimo indietro e facciamo la stessa cosa anche con Epic Games e se vuoi avviare Fortnite aprirlo direttamente su Epic Games, quindi trattini su Epic Games, informazioni qua, scendi fino a giù fino a trovare così, utilizzo dei dati, ovviamente ci clicchi sopra e elimini così i dati, eliminiamo i dati qua sopra e sbottiamo le cache e facciamo ok. Se non dovesse funzionare Fortnite puoi semplicemente disinstallare Epic Games e reinstallarlo. Vediamo un attimo qua e ora entriamo su Epic Games. Una volta fatto avvia sempre Fortnite attraverso Epic Games e ora clicchiamo su avvia. Connessione in corso. Connessione in corso. Grazie. Il gioco si è avviato perfettamente senza nessun problema quindi a me Fortnite è andato svuotando così le cache e facendo il ripristino. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao